L'Ordine degli architetti di Teramo ha deciso di stimolare un dibattito tra i candidati alla carica di sindaco della città sui temi legati alla urbanistica cittadina nel particolare. Ne parliamo con Gianni Fabiocchi che è il presidente dell'Ordine. Quali sono i temi al centro delle vostre iniziative di stimolo al nuovo governo di questa città? In ogni momento elettorale l'Ordine ha sempre avuto questo momento di dibattito con i candidati. Questa volta l'abbiamo voluto avere tutte e tre qui nella nostra sede per sviluppare un dibattito complessivo sul futuro della città. Un dibattito che non parte poi dalle situazioni precise e viriscorrende. Vogliamo volare un pochettino più in alto, vogliamo stabilire le regole su cui innestare le prossime battaglie urbanistiche, i prossimi cambiamenti che investiranno la città di Teramo. Perché vogliamo avere delle regole? Perché vogliamo che siano condivise, condivise nelle scelte, condivise sul futuro, condivise il modo con cui dobbiamo operare. Abbiamo formulato delle richieste ben precise. La prima fra le quali è che per noi architetti la qualità diffusa dell'architettura deve essere la base di ogni trasformazione territoriale nel comune. Chiediamo ai candidati se loro sono d'accordo sul fatto che comunque da parte dell'amministrazione ci deve essere trasparenza, ci deve essere condivisione anche nell'evidenza pubblica delle proposte. Chiediamo ai candidati che nella formulazione degli incarichi bisogna mantenere la rotazione, l'inserimento dei giovani architetti e soprattutto che si sviluppi un grosso dibattito che porti finalmente a quella formulazione della democrazia urbana che può passare anche e soprattutto nell'istituzione di uno spazio fisico, un urban center in cui i vari attori delle trasformazioni territoriali e cittadine possono dibattere sul futuro della città.